Si è tenuta nella sala biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro la riunione tecnica sul problema dell'erosione costiera tra l'amministrazione metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata dal sindaco facente funzioni Versace, dal consigliere delegato Fuda e dalla dirigente del settore lavori pubblici Catalfamo e i rappresentanti del comitato dei cittadini di Fesa Costa di Cannitello. L'incontro è servito per fare il punto della situazione in merito alle competenze degli enti coinvolti e a quanto è stato fatto nelle ultime settimane dall'ente di Palazzo Alvaro, il tutto con particolare riferimento al coordinamento delle progettazioni e al quadro generale delle risorse che verranno stanziate da qui a breve per risolvere l'annoso problema, non solo per quanto riguarda Cannitello ma tutte le unità fisiografiche del litorale metropolitano. Si è instaurato un buon dialogo, soprattutto mettendo in chiaro quali sono le competenze, quali sono le prospettive per la risoluzione di un problema così complicato. Ovviamente lì sulla Cannitello c'è già una previsione di intervento, 1 milione e 800 mila euro che la città metropolitana sta portando avanti una progettazione come ente a Valzo, sono risorse regionali e noi stiamo effettivamente svolgendo le attività di progettazione e di realizzazione dopo. Questo percorso è già segnato, c'è un cronoprogramma preciso per l'investimento del minone 8, stiamo facendo di tutto per accelerarlo. Abbiamo proposto di attivare in maniera sperimentale un tavolo che è stato istituito a settembre, un tavolo sull'erosione costiera istituito a settembre presso la regione Calabria, ancora non attivato nei suoi obiettivi e che potrebbe partire sperimentalmente alla città metropolitana di Reggio Calabria per darne i frutti coordinando tutti i soggetti interessati a questi interventi.